Venerdì pomeriggio alle 18 sarò a Napoli nel cuore della bella, storica, calda, colorata Napoli, patria della cultura, della legge, del diritto. Saremo in Piazza Matteotti. Qualcuno a sinistra sta riuscendo a far polemica anche sul nome della piazza di Napoli, perché sul manifesto abbiamo scritto ore 18, Salvini, Piazza Matteotti a Napoli, ex Piazza della Posta, perché molti napoletani se la ricordano così. Qual è il problema? Che Piazza della Posta è un nome che ricorda il fascismo. Ragazzi, siamo nel 2020, guardiamo avanti, è caduto il muro di Berlino, non ci sono più e non torneranno nel fascismo, nel comunismo.